Marco Colaizzo punta ai play-off, il presidente dell'Olimpia agnonese è ambizioso e vuole arrivare in alto. Gli acquisti messi a segno nella campagna di riparazione di dicembre testimoniano la ferma volontà del club di rinforzare la rosa e di puntare dunque a qualcosa di più prestigioso della salvezza da ottenere senza passare per i play-out. Irobustito l'attacco con gli ingaggi del puntero argentino Federico Martina Maia, classe 1990, già in campo sabato scorso contro il Pineto e con l'esterno offensivo italo-tunisino Yassin Arfawi, classe 1999, anche egli subito utilizzato da Mr. Pizzi, la società ha ufficializzato l'arrivo del difensore centrale Marco Ciampi, classe 1992, proveniente dalla Nocerina e del centrocampista Manel Minicucci, classe 1995, 15 gettoni di presenza e un gol con la maglia della Tina, serie di Girone G. Ciampi ha indossato anche le maglie di Benevento, Teramo, Sorrento e Juve Stabia, un giocatore di grande valore che dovrà conferire esperienza e forza fisica al reparto. Minicucci invece è un attaccante esterno che può giocare anche da interno di centrocampo, cresciuto nel settore giovanile della Roma, poi giovanili a Siena e Bari, prima di militare con Fidelisandria, Monopoli, Vissartena e Latina. Per i due giocatori ieri pomeriggio primo allenamento con i nuovi compagni e domenica saranno a disposizione per la trasferta di Matelica contro un avversario in forma che sta risalendo la classifica e che non ha alcuna intenzione di fare sconti ai Granata. Le operazioni di mercato del club Alto Molisano sono state portate a termine dal direttore sportivo Elio Ciccorelli in collaborazione con lo staff tecnico della società allenata da Matteo Pizzi. Grazie.